Una mostra di foto d'epoca su Alcamo, ovvero la salvaguardia della memoria senza la quale non c'è futuro e far conoscere alle giovani generazioni come eravamo, uno dei promotori Giuseppe Calvo. Questo è un progetto che da tempo che cercavo di poterlo realizzare per cui già siamo arrivati in questa piazza davanti alla chiesa San Nicolò di Bari presentando le varie foto d'epoca della piazza, del costo 6 aprile, piazza della Repubblica e tanto di altro. Quante foto ci sono? All'incirca sulle 150 foto. Chi ha organizzato questa mostra? Noi facciamo parte del gruppo Alcamo di una volta su Facebook, siamo tre gli amministratori, io Vincenzo Raspante e Nicola Ferrara. Ma c'è anche un'idea nel prossimo futuro di organizzare una fototeca? Speriamo che l'amministrazione comunale ci dà questo spazio, questa opportunità di una fototeca permanente. Quanti giorni durerà la moscia e quando si può già vedere? Da oggi 17 al 20. Orarie? Orarie, la mattina dalle 10 alle 12 e mezzo, dalle 16 alle 21 e 30.